gentili lettori di rivera 24 ben trovati e bentrovato a giacomo chiappoli sindaco di diana marina grazie siamo qui qui un pochino qui nelle vesti di non tanto di sindaco di diana marina quanto di fresco candidato alla presidenza della regione per grande liguria un risultato forse inferiore alle aspettative ma come lo commenta ma lo commento nella maniera forse migliore per me che è quello che dico abbiamo aperto una porta abbiamo aperto un canale così che quello di grande liguria che è un progetto politico come mi dice il segretario basso un progetto politico che inizia un suo percorso domani ci potrà essere un grande savona ci potrà essere un grande un grande di grande è una strada pensavo devo dire pensavo effettivamente di avere più voti di quelli che non ho avuto ma non sono riuscito a incidere sul 50 per cento di quelli che non sono andati a votare non ci vanno ormai è chiaro che l'elettorato diventa quasi come quello americano non gli americani eleggono il presidente la più grande potenza al mondo con il 36 per cento e chi va a votare va a votare sono gli amici degli amici quelli che hanno dei business con le lobby le lobby e trump ha rotto un pochino io pensavo di poterlo fare quel ragionamento lì lui ha rotto completamente ha portato il 10 per cento in più a votare e ha vinto è diventato ha vinto sulla clinton però lui ha una potenza di fuoco che non era mia perché ci vogliono per fare questi progetti ci vogliono dei tanti soldi o te li danno perché poi restituisci i piaceri oppure come me è un po dura ma ci abbiamo provato su un sereno sono anzi sono orgoglioso di quello che ho fatto i costi della politica quindi viene di nuovo in primo piano questo grande argomento sì beh ieri un amico un amico giornalista come come può essere lei mi ha detto ma da dove ne vieni giacomo io gli ho detto guarda che so da dove ne vengo e so come funzionano le cose perché gente che va in giro che è del sistema che va in giro con le macchine del sistema che non spende una lira che agli autisti che ha diciamo i fondi dei gruppi e regionali di più nazionali il salvini e la meloni che venivano a fare gli aiuti gli endorsement a toti vengono con gli aerei non pagati da loro certamente pagati dalla camera quindi so di che cosa sto parlando e quindi il sistema questo che si presenta come sistema è evidente che usa tutto il denaro che viene da non dalle loro tasche come il mio ma viene dato quindi non è che non sono non sono ma sapevo e però pensavo che in questo momento di lock down fosse più facile attraverso i social arrivare invece non è vero la politica ancora da piazza, quella da comizi, quella da incontri, quelle da strette di mano che non è stato possibile fare lei aveva detto che se fosse entrato in consiglio avrebbe fatto una posizione senza sconti avrà modo comunque pensa di avere modo comunque di far sentire la sua voce nel lagone regionale ma io intanto non chiudo il mio sito di facebook e voglio diciamo commentare la politica come fa poro come fanno altri quindi ci sarò sarò presente non è che me ne vado non continuo in primis cioè do una mano a questo che a questo diciamo questo bambino che abbiamo creato cercherò di farlo crescere però molto più staccato molto più tranquillo e devo dire una cosa che ho su cui ho riflettuto parecchio delle formazioni che da un momento all'altro arrivano al 23 per cento secondo me creano dei problemi mi creano dei problemi anche dentro perché la domanda non è sono solo i soldi anche i soldi ma qui c'è qualche cosa di diverso su cui bisogna poter ragionare e posso dire una cosa ma la dico forse magari qualcuno dice ma cosa sta dicendo sono contento di non essere entrato nel consiglio regionale perché come ha detto come hai detto prima non avrei fatto sconti il che forse mi avrebbe portato al contrasto con chi ha aiutato questa formazione arrivare io ricordo un amico si chiamava bonanno ha avuto uno strano incidente meno male che non sono lì e meno male che non devo avere incidenti sono fuori dai giochi futuro politico e amministrativo di diano marina beh io su diano marina ho detto avevo detto che per fare determinate cose bisogna avere il coraggio io l'ho avuto nel 2011 e l'ho ripetuto cinque anni dopo chi vorrà presentarsi dopo di me dovrà aver fare un atto di coraggio dovrà avere la forza di poterlo fare io guarderò non sarò della partita non ci sono e se passasse la legge nel frattempo del terzo mandato per i comuni fino a 15 mila abitanti io l'ho sempre boicottata un sindaco gli devi dare la forza quella che non ho avuto io in quel campo perché la regione non ha fatto il proprio dovere e devi dare la forza di portare in finale i progetti ma dopo dieci anni un sindaco perde la spinta quindi è meglio che si fermi non può venire fuori di tutto ma certamente che io il sindaco non lo rifarò mai più non lo farò mai più da nessuna parte perché ritengo che il sindaco sia l'uomo che subisce tutti gli errori degli altri perché è a contatto con la gente con tutti e tutti pensano che sia lui il problema no non è vero il problema certe volte te lo creano gli altri e tu devi soperare ah i famosi altri perché rimane sempre il fatto che noi eravamo gli altri in questa campagna elettorale adesso come diceva mio nonno ci sono gli uomini i bisomi e i cagabusi io faccio parte presuntuosamente degli uomini poi ci sono gli altri userei questa espressione che è stata usata per me in campagna elettorale perché hanno oscurato hanno fatto parlavano di Sars e di Toti di Sars e di Tu qualche volta di Massardo perché c'era di mezzo Renzi quindi però poi c'erano gli altri adesso io dico che sono entrato in un'altra dimensione ci sono gli uomini i bisomi e i cagabusi io sono l'uomo gli altri ognuno si prende al suo giro ringraziamo quindi Giacomo Chiappoli di essere stato con noi e grazie a voi per l'attenzione e appuntamento alla prossima Giacomo Chiappoli di essere stato con noi